Quasi un anno fa praticamente gli avevamo detto ti verremo a prendere presto, tra pochissimo ti verremo a prendere, e poi è successo quello che è successo, quindi spiegare ad un bambino una cosa così è complicato capirlo noi, per lui è sempre più difficile, lo abbiamo visto anche un pochino più triste, triste negli ultimi video, e per noi è sempre più, adesso tra l'altro ci sarà anche il suo compleanno il 25 dicembre, è nato il giorno di Natale, e gli manderemo ancora gli auguri con i video. Francesco e Monica da un anno attendono di poter abbracciare il proprio figlio ed accoglierlo nella sua nuova casa, ma al momento la famiglia non potrà riunirsi, è una storia paradossale quella che arriva da Cavriglia, la coppia infatti ha adottato Simone, un bimbo cinese di 8 anni. È incredibile amare così tanto un essere senza ancora conoscerlo, non l'hai ancora abbracciato, ma è incredibile, lo amiamo tantissimo. Tutto praticamente era pronto, concluso l'iter burocratico, Francesco e Monica sarebbero dovuti andare a prendere in Cina il piccolo, ma poi è arrivato il covid a bloccare tutto, impossibile infatti partire perché i viaggi turistici per l'Oriente sono sospesi. E purtroppo per le adozioni è previsto il visto turistico, questa è la cosa che ci ha sconvolto sinceramente, insomma. Quindi non è arrivata nessuna comunicazione, nessuna proposta di qualcosa di alternativo per noi. Mentre vedevamo comunque che imprenditori, tecnici, lavoratori, giornalisti, quello che sia, comunque facendo la quarantena con tutti i protocolli sanitari riuscivano insomma a partire. Noi abbiamo dato disponibilità per qualsiasi cosa, anche andarci a piedi. Simone così attende che i suoi genitori possano andare a prenderlo, una condizione che però giorno dopo giorno diventa sempre più dura. Il tempo è veramente sprecato, per noi perché ci manca tanto, però per loro ancora di più. Perché io penso che quell'età insomma sarebbe stato veramente importante per loro non perdere questi mesi, questo anno che alla fine trascorrerà. Sulla vicenda è intervenuto anche il primo cittadino, Leonardo degli Innocenti Ossanti, che ha scritto una lettera al ministro per la famiglia Elena Bonetti. Beh io chiedo un aiuto per una famiglia di Cavriglia, di coniugi Zangrillo, ma in verità per 37 famiglie che in Italia hanno fatto una scelta d'amore, una scelta di coraggio, che è quella di adottare dei bambini in Cina. E quindi ho cercato nel mio piccolo di sensibilizzare il ministero e il ministro affinché possa in maniera più rapida possibile ottenere i visti e quindi tutte le procedure per portare Simone presso la propria famiglia.